ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale siamo tornati qui con yugioh duo links sono sincero prima di continuare con lo spacchettamento io volevo aspettare a 5.000 gemme però ci sono in alcuni box dove sono contenenti le carte che mi interessano scontati cioè una busta invece di 50 25 gemme e questa offerta vale solo fino a domenica 31 io sto registrando oggi sabato 30 luglio quindi ho detto vabbè non ho raggiunto le gemme che volevo per iniziare un altro spacchettamento però non posso perdere l'occasione di praticamente due pacchetti al prezzo di uno ho detto vabbè io volevo spacchettare il box contenente il drago occhi fotonico occhi galattici ma quello non è scontato quindi partirò da quelli scontati almeno oggi proverò a spacchettare quelli spero mi porti nuovamente fortuna lui che però c'è un però è vero che sto registrando momenti di sabato come allora come nell'ultimo pacco penning quindi magari può portare fortuna però una differenza che lui odiono dion come si pronuncia non lo so non è più livello 13 magari 13 porta fortuna e 15 perché a livello 15 mi davano 50 gemme quindi l'ho fatto livellare ma spero porti ugualmente fortuna anche oggi il primo dove andrò a spacchettare ma non penso che ce la farò 3.343 gemme probabilmente le spenderò tutte mi auguro di sculare nuovamente vede come vedete 25 una busta invece di 50 per ottenere mischiata resuscitata me ne servono due quindi dovrò sculare al massimo allora visto che qui devo beccare una sola carta andrò sempre di una busta in busta visto che poi se lo becco dovrò resettare il pack niente già le prime 25 gemme ma volevo sarebbe stato una sculata atomica alla prima busta a beccarlo niente neanche stavolta dai dai fortuna non mi abbandonare dai ho bisogno di te devo sfruttare questa sarebbe buono beccare perché un'altra offerta diciamo in un altro pack che mi interessa la carta è ciclone che pure sta a 25 gemme però ho voluto iniziare da qui visto che me ne servono due ciclone in realtà pure se prendere una seconda copia non mi dispiacerebbe però lì potrebbe andare anche una dai 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 recuribi attenzione e non brilla a soffiacchi oggi però c'è una carta magia attenzione noi sei samurai uniti che peccato un sr dai 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 ora mi dovete far spendere sempre tutte gemme ma è una sculata dai 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 e manco brio però c'è la faccia attenzione e c'è una carta verde ti prego ti prego niente sepoltura da un'altra dimensione 86 come bersaglio fino a tremente branditi vale di tornare nel cimitaro non male questa cartina 3 kuribi dai 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 la faccia c'è, attenzione una magia c'è sepoltura nata la vode di un'altra dimensione il gioco mi prende per il popò e mi fa uscire tutte le magie a sere oppure va per la OR o fabbrica frammento o araldo dell'abisso brilla, vediamo, non c'è una carta magia quindi niente guerriero carica polvere di stelle onthanner più mostri nonthanner quando questa carta viene sincro evocata puoi pescare una carta, puoi utilizzare questo effetto di guerriero che deve essere una sola volta per turno questa carta può attaccare tutti i mostri evocati specialmente contro l'edetto avversare una volta ciascuno uh, tre curibi, dai, dai, dai dai, 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 dai esci, mille esci, esci, esci è una carta magia ti prego ti prego, ti prego mischiata resuscitata, sì sì, sì, sì sì, sì, dai sì, sì e vai oh meno male, mi è uscita la prima OR è stata proprio mischiata e risuscitata dai, 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 dammela subito dammela subito, dammela subito dammela subito, dammela subito dammela subito, dammela subito c'è una magia qua caccio un urlo che se no, corrente di concentrazione giuro avrei cacciato un urlo che mi avrebbero sentito veramente a sette chilometri di distanza se l'avessi beccata ora avrei chiuso il B no, no avrei cercato comunque ciclone perché è l'occasione delle 25 gemme però se, 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 veramente sarei stato molto tentato di chiudere il video perché c'è a beccarla la prima busta uh dai, 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 dai dopo tre buste, ti prego dai, 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 dai c'è una magia, c'è una magia no, è una trappola ma forse sarà un SR o sta indietro qua la trappola e infatti SR perché trappole UR non ne vedo stile 6 doppia arma curibo curibo uh, tre curibi per favore dammela, dammela, dammela please please dammi mischiata e risuscitata non c'è una magia questo è un UR ma non è una magia infatti Mobius il monarca glaciale 2.000 anni dopo tre curibi dai, 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 dai niente sta uscendo tante volte in questo pack tante tanti curibo però cioè senza brillare senza niente questo è l'ultimo pack che posso aprire in realtà ne ho 18 quindi mi mancano 7 gemme vedo se riesco a accumularle apro proprio l'ultimissimo l'ultimissimo dopo mi sa che ci dobbiamo salutare così perché pensavo di poterne accumulare 7 guardando il replay ma c'è il replay dei duelli ma mi risulta che li ho già guardati perché mi sembra ieri sera quindi non sono ancora passate le 24 ore ah niente qua dovrei duellare ci metterò un casino di tempo non mi fa non mi da gemme alternative facendo questi trucchettini quindi nulla mi devo fermare qui andiamo però ad aggiungere al deck una copia di mischiata risuscitata allora una copia di mischiata risuscitata dove stiamo? dove la eccola qua quindi siamo a 17 carte speriamo almeno di arrivare a 18 con una seconda copia di mischiata risuscitata non ci sono riuscito però però farò così farò così non so quanto riuscirò a fare oggi se giocherò però se giocherò tutte le gemme che accumulerò io questa volta farò eccezione è vero avevo detto faccio tutto in camera però se riuscirò ad accumulare qualche gemma spacchetterò ancora anche perché questo pack l'abbiamo visto quindi l'ho fatto vedere in camera per cercare di beccare una seconda copia di mischiata risuscitata in questa giornata prima che mi finisca il diciamo l'offerta se la beccherò in tempi brevi proverò anche ad aprire ciclone fino a fino a che durerà diciamo l'offerta se non lo beccherò poi se le beccherò al prossimo video diciamo vi aggiornerò e si ritorna ad aprire tutto in game una volta che finisce diciamo questa offerta già domani io non spacchetto più in off camera ma accumulo almeno 5000 gemme cercherò di accumulare 5000 gemme per il prossimo pack andrò direttamente non so se poi continuerò se sarò riuscito a fare ciclone se sarò riuscito a fare mischiata risuscitata quello che è mischiata risuscitata facciamo così mischiata risuscitata lo becco comunque in off camera perché già uno l'ho beccato qui il pack lo conosciamo quindi mi aprirò tutti i 90 e passa buste che mi rimangono poi accumulerò 500 quindi potrebbe passare stavolta potrebbe passare davvero del tempo lo sto dicendo da un paio di video poi succede sempre qualcosa che mi diciamo che mi porta ad aprire altre altre buste potrebbe passare quindi del tempo e vediamo poi vi aggiornerò la situazione come è andata per oggi è tutto iscrivetevi al canale cerchiamo di arrivare ai 300 iscritti possiamo farcela lasciate un mi piace attivate la campanella per non perdere i prossimi video bye bye ciao